15 giorni fa la sera di venerdì 22 marzo dei terroristi irrompono in una sala concerti di mosca cominciano a sparare all'impazzata i morti sono almeno 143 l'attentato che viene rivendicato dall'isis non solo colpisce al cuore la russia ma riporta in tutta europa la paura per una minaccia che sembrava sopita invece non per questo era meno importante quella del terrorismo islamico ecco quanto è fondata oggi la preoccupazione di nuovi attentati in occidente italia compresa lo vedremo più tardi nel nostro approfondimento dovremo anche una storia bellissima da raccontarvi quella di un ex jihadista che poi è diventato un agente dei servizi segreti aiutato a sventare parecchi attentati ma come sempre cominciamo dall'attualità e l'attualità di oggi sembra curiosa in realtà è molto profonda è una foto intanto che vi facciamo vedere che viene dalla corea del nord corea del nord lo sapete ha un grande leader leader supremo si chiama kim jong-un il quale ha scelto la sua erede la sua erede si chiama kim ju a e ha presenziato con lui a cerimonie ufficiali ormai da un anno lo segue lanci di missili visita ai militari e così via è casualmente sua figlia ma c'è un piccolo particolare è una ragazzina che ha soltanto 11 anni e quindi insomma la cosa è un po particolare la chiamano già stella del mattino della corea ma è una ragazzina ancora di 11 anni e noi allora abbiamo deciso di parlare non solo di questa foto ma di tutto quello che c'è dietro con un esperto di temi internazionali che è in collegamento da new york e posso dirlo scherzosamente perché non è successo un granché ieri è sopravvissuto al terremoto giovanni riotta buon pomeriggio benvenuto ciao andrea buongiorno allora noi perché abbiamo scelto questa foto gianni riotta perché se uno va a vedere la costituzione della corea del nord c'è scritto che la corea del nord sarebbe una repubblica ora in realtà proprio repubblica non è ma non è neanche una monarchia perché non è scritto da nessuna parte che una monarchia che cos'è per esempio un paese come la corea del nord è una domanda molto interessante andrea la corea del nord fu fondata da chi mi zunghi il nonno di kim jong ed era un dittatore talmente aggressivo e bizzarro che mise in difficoltà sia stalin che mao non esattamente due mammolette perché voleva fare la guerra contro la corea del sud perché ha condotto sempre una offensiva bellicista come si usa dire adesso costante e varie volte sia mao che stalin cercano di indurlo a più miti consigli ma lui fu sempre aggressivo adesso il nipote stava conducendo delle trattative per riunificare il paese con la corea del sud che è democratica lasciamo perdere poi se ci sarebbe riuscito ad andare in porto oppure no però di recente ha completamente rotto ogni trattativa con la corea del sud e si è concentrato sul programma nucleare gli esperti pensano che potrà che possa presto mettere insieme una settantina di ordigni nucleari e ha dichiarato che la corea del sud è il nemico principale perché perché vede e putin aggressivo perché vede la distanza tra cina e stati uniti aumentare ma grado la recente telefonata del presidente biden e il presidente xi jinping e quindi capisce che in questo grande gelo in questo vuoto tra le grandi potenze lui torna a essere aggressivo come suo nonno quindi abbiamo capito una cosa da tutta questa descrizione di gianni riotta che si possono usare tanti aggettivi o tanti sostantivi per parlare della corea del nord certamente non rientra tra le democrazie nel mondo che cos'è è una autocrazia le autocrazia aumentano le democrazie diminuiscono e noi abbiamo dei numeri che ci aiutano e che facciamo adesso vedere a gianni riotta il primo numero che gli facciamo vedere è un numero piccolo quattro che sono i miliardi di cittadini nel mondo che sono governati dalle autocrazie che vuol dire quattro vuol dire che solo cioè che ben la metà del mondo dei cittadini del mondo è governata da un'autocrazia la cina per esempio sono già tanti no la russia insomma sono già tanti e così via che vuol dire questo gianni riotta che stiamo andando in un mondo sempre meno democratico si stiamo andando in un modo sempre meno democratico e questo è andrea in controtendenza rispetto a quello che abbiamo visto dalla fine della guerra fredda nel 1989 quando cade il muro di berlino allora tutti i paesi dell'europa dell'est dall'ungheria la polonia la cecoslovacchia ancora unita diventano da dittature e democrazie c'è poi un disgelo perfino in russia c'è un periodo democratico marcatamente democratico e in russia c'è disgelo molti americani molti esperti americani si illudono che l'apertura al mercato in cina possa democratizzare perfino la cina da allora abbiamo degli rigidimenti la russia è tornata un regime autocratico assolutamente centralizzato intorno al presidente putin la cina a xi jinping è il più assoluto e presidente dittatore dai tempi di mao zetunga completamente accentrato ogni potere anche militare nelle sue mani gli industriali finanzieri non hanno più alcuna autonomia come ebbero dopo il digelo di deng shaoping dopo l'apertura di mao a nixon nel 1972 è risultato oggi che hai un mondo in cui all'onu ci sono più dittature che democrazia in effetti in effetti se noi andiamo a guardare i numeri globali noi italiani può sembrare strana sta cosa perché siamo abituati alle democrazie ma guardiamo il secondo numero il secondo numero è 96 e 96 sono il numero dei paesi democratici nel mondo se ci mettiamo anche quelli piccolini è tipo che ne so andorra san marino si supera un pochettino il centinaio ma sempre la metà sono allora in base a quello che ci diceva poco fa gianni riotta non bisogna mai dare per scontata la democrazia perché anche un paese che una volta può essere democratico poi può diventare invece un regime un'autocrazia no assolutamente e poi come vedi anche in europa anche nell'europa dell'unione europea e abbiamo visto le spinte centralizzate in in ungheria abbiamo visto le sfide alla magistratura indipendente la libera stampa e purtroppo perfino negli stati uniti tu hai visto sotto la presidenza a trump dal 2016 al 2020 hai visto elementi che sono tipici delle democrazie malate l'assalto al campidoglio della giorno dell'epifania del 20 21 trump che se la prende con i giudici trump che se la prende con i giornalisti e quindi e nessuna democrazia è mai eterna sai noi italiani la storia l'abbiamo vista perché l'italia aveva una forma di democrazia e prima dell'avvento del fascismo nel 1922 era una democrazia imperfetta le donne non votavano e non era certamente una democrazia compiuta ma certamente non era non era una dittatura c'era un partito socialista c'era un partito comunista e c'era un grosso movimento cattolico bene tutto questo fu poi in pochi mesi irregimentato dal regime fascista quindi le democrazie sono fragilissime istituzioni che possono andare in mille pezzi ieri come oggi un ultimo numero facciamo vedere a gianni riotta ed è il numero 45 perché 45 perché 45 sono gli stati al mondo che hanno alti livelli di corruzione attenzione perché abbiamo messo questo numero perché di questi 45 soltanto cinque sono democrazia gli altri sono tutte autocrazia che vuol dire che quando c'è una democrazia non è solo un vantaggio politico a volte anche un vantaggio economico perché c'è molta più corruzione in un regime vero o no sai in un regime è più facile rubare perché non hai giornalisti non hai indipendenza della magistratura quindi tutto avviene sotto sotto banco una delle grandi leggende italiane è che durante il fascismo ci fosse onestà come provano i più recenti studi purtroppo non era assolutamente è così intorno a putin tu hai i famosi oligarchi i famosi silovichi cioè feudatari che completamente speculano all'ombra del suo governo e anche in cina spesso del governo e xi jinping devono lanciare campagne antricorruzione in cui da una parte emettono fuori combattimento dei ladri veri e dall'altra parte chiunque si opponga alla regola del presidente viene dichiarato ladro quindi la corruzione serve anche per reprimere il dissenso grazie mille a gianni riotta e buon soggiorno alla sua casa di new york lo riaspettiamo in italia e lo avremo in studio invece in studio ci sta raggiungendo l'ospite del nostro terrorismo che ci darà una mano a capire quanto stiamo rischiando quanto è forte la minaccia di terrorismo in particolare il terrorismo islamico che dopo l'attentato a mosca è tornato nell'agenda dei governi europei alessandro politi buon pomeriggio buon pomeriggio alessandro politi lunga storia insegna intelligenza la sioi la società italiana per organizzazione internazionale è il direttore della si chiama un nome un po difficile nato defense college foundation chiamiamo la fondazione nato e ci capiamo meglio lei le conosce le regole di today si a quanto pare si si è portato le sue tre parole assoluto e allora cominciamo dalla prima debolezza debolezza prima parola perché perché in realtà il terrorismo è un metodo di lotta politico molto debole nonostante le apparenze perché devo scusi non ho capito perché non cambia le cose salvo rari casi sono pochi i capi terroristi che sono diventati capi di stato quindi mette paura però non raggiunge grandi risultati se non ancora di mettere paura molto molto poco buona questa prima parola seconda parola nebbia nebbia perché perché all'interno degli stessi gruppi terroristi ci sono differenze forti ci sono lotte di potere e questi gruppi se vogliono sopravvivere devono cambiare continuamente quindi nebbia perché si vede poco all'inizio si vede quasi niente e poi si spera di diradarla per bene e la terza parola e la terza parola è sicurezza questa ci riguarda tutti perché sicurezza perché è la risposta prima che si dà a questo tipo di eventi e di rischi ma in realtà è anche una un problema per la democrazia qual è l'equilibrio tra sicurezza e libertà l'abbiamo visto sugli aerei prima dell'11 settembre potremmo fare tutto adesso non possiamo portare neanche le cose sopra 150 vabbè su questo magari fosse solo quello la domanda è siamo veramente al sicuro rispondiamo tra poco siamo di nuovo in studio in diretta a today e come vedete dal titolo di questa puntata stiamo parlando del rischio terrorismo che dopo l'attentato a mosca è rientrato nell'agenda dei governi europei o perlomeno forse non se n'era mai andato ma se ne parlava un po' poco invece oggi ne vogliamo parlare c'è alessandro politi qua in studio con noi lui dirige quella che per brevità chiameremo fondazione nato e si intende da molti anni di questi temi e di intelligence avremo lui avremo reportage avremo testimonianze ma soprattutto abbiamo i numeri che ci piacciono moltissimo e quindi cominciamo dai dati oggi le vittime del terrorismo nel mondo sono in aumento nel 2023 sono state 8352 il numero più alto degli ultimi sei anni gli attacchi sono stati 3350 in 41 paesi diversi e almeno 490 in un'unica nazione il pakistan il paese con più morti nel 2023 è stato però il burkina faso seguito da israele vittima dell'attacco di hamas lo scorso 7 ottobre dal mali dal pakistan e dalla siria per la prima volta dopo anni tra i paesi con più vittime non c'è l'afghanistan di tutti gli attacchi nel 2023 oltre metà sono stati commessi da un gruppo organizzato le quattro organizzazioni terroristiche più pericolose sono state l'isis hamas il cosiddetto gruppo di sostegno all'islam e ai musulmani associato ad al qaeda e infine al shabab attivo nel corno d'africa oggi si contano nel mondo 66 organizzazioni terroristiche 41 sono di formazione recente mentre 25 esistono dal 2007 il loro numero è diminuito negli anni nel 2009 ad esempio erano ben 141 ma da allora alcune si sono sciolte ed altre si sono fuse rispetto ad una decina di anni fa in alcuni paesi europei il rischio di attentati terroristici è cresciuto ad esempio in belgio germania e slovacchia in altri come italia francia ungheria è rimasto uguale in altri ancora come norvegia bulgaria e il regno unito è invece diminuito io lo so già che alcuni si saranno fatti una domanda ma come non abbiamo sentito nominare la russia in tutti questi dati tutti questi paesi perché perché intanto questo è l'ultimo rapporto uscito proprio sul terrorismo no quindi il rapporto globale 2023 e perché onestamente fino a 15 giorni fa la russia non rientrava non sembrava almeno tra i bersagli perché se uno andava a vedere i morti per terrorismo nel 2023 nel 2022 erano stati due e due poi il 22 marzo c'è stato appunto questo attentato pazzesco alla sala concerti no il clocus city hall alessandro politi gli attentati si possono prevedere oppure no cioè questa settimana se uno leggeva il washington post americano no diceva no noi lo sapevamo e noi avevamo avvertito mosca beh ma qui il problema non è tanto e non è uno scaricabarile a noi istituzionale che poi appunto non serve a niente non è tanto se si possono prevedere dal punto di vista dell'intelligence il problema è la decisione politica si sapeva che hamas avrebbe attaccato l'edice in israele tanto lo sapevano quindi israele lo sapeva già per esempio ne tagliavo ha felicemente ignorato questo avvertimento e non è la prima volta la guerra dello yom kippur ramadan aveva esattamente lo stesso schema dal basso la gente dice guarda che c'è qualcosa a livello di stato maggiore no impossibile e quindi la stessa cosa le dice sulla russia cioè magari l'hanno anche avvisato putin ma ha deciso che non bisognava forse diciamo così i servizi che avevano già sventato un attentato contro una sinagoga peraltro si saranno pure mossi ma evidentemente non sono riusciti a cogliere qualche cosa e poi la prima dichiarazione di putin quando ci fu questa questa rivelazione ma mi sembra un'intimidazione che è una reazione tipica da guerra fredda salvo poi capire che no non lo era ed è rimasto silente a lungo negli stati uniti i servizi segreti insomma sono sempre attivi no in particolare diciamo che dall 11 settembre da più di vent'anni la vigilanza è altissima e lo è anche adesso in mezzo a questa campagna elettorale per le presidenziali e con una guerra in corso in medio oriente dagli stati uniti la nostra prima testimonianza di oggi gli attacchi terroristici di mosca di due settimane fa hanno riportato al primo piano anche il problema della sicurezza contro gli attentati terroristici islamici negli stati uniti marco rubio senatore americano ha detto che se i terroristi volessero fare un attacco simile a quello di mosca negli stati uniti ci metterebbero un secondo a riorganizzarlo e anche un altro senatore tom cotron ha detto che secondo lui le ambasciate americane in giro per il mondo rappresentano il punto di più alta vulnerabilità del paese contro attacchi terroristici teniamo presente che quella della sicurezza è un'ossessione americana con tipicamente qualcosa come 70 80% degli americani che ritengono il terrorismo islamico una minaccia persistente ovviamente tutto quello che sta succedendo ora in israele e in palestina con gli attacchi con con gli attacchi di ottobre e ora la guerra di israele contro amassi fanno sì che la paura negli stati uniti sia di nuovo in primo piano quindi si c'è paura di attacchi terroristici negli stati uniti luca passani ci ha detto il 70 80 per cento degli americani hanno proprio paura del terrorismo islamico perché perché l'hanno vissuto sulla loro pelle no pensiamo a la foto più iconica forse dell'ultimo quarto di secolo è quella del dell'11 settembre no tutti noi ricordiamo che cosa facevamo in quel momento quando abbiamo saputo questa notizia dell'attentata alle torri gemelle ma una cosa del genere oggi con i servizi segreti di oggi anche in europa sarebbe replicabile ormai no siamo ormai immuni a cose di questo tipo uno tende a sperare di sì però è possibile sarebbe un grosso errore immaginare che adesso non ci sarà mai più e come la pandemia no adesso nessuno ci pensa più però no la prudenza e soprattutto poi voglio dire il mestiere della politica è quello di prevedere ed è quello di mantenere la guardia ragionevolmente alta altrimenti si scivola poi in una democrazia sorvegliata la democrazia che ammette le torture insomma ci sono situazioni complicate alcuni passi avanti in questi anni dei servizi segreti sono stati fatti anche grazie a dei terroristi che poi si sono pentiti hanno cambiato vita hanno cominciato proprio a collaborare con le forze dell'ordine il protagonista del reportage di barry stevens dal canada è proprio uno di loro l'attentato alle torri gemelle di new york dell'undici settembre 2001 è forse quello che ha segnato più di tutti la mente e il cuore del mondo intero all'improvviso abbiamo imparato a convivere con la paura che il terrorismo può colpire ovunque e chiunque lui è mu bin sheikh un ex jihadista poi pentito e oggi gira il mondo per aiutare giovani musulmani a capire le ragioni della loro radicalizzazione come ti è venuta in mente l'idea di andare in siria per unirti all'isis ero stanco di vedere il mondo andare a rotoli mentre io continuavo a vivere la mia vita agiata e tutti intorno a me soffriva e quindi è così che hai deciso di aderire all'isis perché all'inizio si professava come si come un gruppo con dei valori anche se questi valori erano disumani l'obiettivo dichiarato dall'isis in siria era liberare la gente dall'oppressione di bashar al assad quindi ho deciso di unirmi alle forze di polizia religiosa quelle che pattugliavano le strade per far rispettare la sharia durante il nostro addestramento ci facevano assistere a decapitazioni e a come eseguire punizioni ed esecuzioni di vario tipo e tu hai assistito a tutto questo sì era come assistere ad esercitazioni su manichini per la rianimazione ma quelle erano persone vere e quando hai capito che ti dovevi tirare fuori da questa situazione quando ho iniziato a uccidere persone mi sono sentito male avevo la nausea stavo male fisicamente sentivo quell'odore avevo quelle immagini in mente Mubin Sheikh conosce da vicino il terrorismo tanto da avere messo al servizio delle forze dell'ordine la sua esperienza di ex jihadista lavorando per il governo canadese come agente dell'antiterrorismo sotto copertura abbiamo in collegamento l'ex jihadista ed ex agente dell'antiterrorismo Mubin Sheikh Mubin Sheikh è l'ex agente del servizio di intelligence canadese grazie al quale sono state catturate 18 persone nell'attentato di toronto da agente Mubin Sheikh è riuscito ad infiltrarsi in molti gruppi terroristici compreso quello che nell'estate del 2006 aveva pianificato una serie di attentati in canada grazie alla mia testimonianza 11 aspiranti estremisti islamici sono stati condannati la radicalizzazione è un processo in cui un individuo arriva ad accettare che la violenza sia l'unica strada percorribile per ottenere un cambiamento politico se si abbraccia questo pensiero si diventa estremisti oltre a fornire la sua testimonianza personale su molti media internazionali Mubin Sheikh tiene spesso anche conferenze sul terrorismo cercando di spiegare cosa porta le persone ad unirsi a gruppi violenti e come contrastare l'estremismo attraverso un processo di deradicalizzazione ho avuto una tipica vita da adolescente con i suoi alti e bassi che però non si conciliava con l'ambiente musulmano indiano conservatore in cui vivevo una sera ho organizzato una festa a casa mia e mio zio mi ha beccato banalmente mi sono sentito così in colpa che ho pensato che l'unico modo per farmi perdonare fosse quello di diventare più religioso così nel 95 sono andato prima in india e poi in pakistan per quattro mesi dove ho incontrato i talebani sono stati loro a convincermi che per essere un vero musulmano dovevo essere un mujahide un combattente il padre di mubin ha saputo del lavoro sotto copertura di suo figlio guardando il tg mubin shake l'uomo di toronto che si è infiltrato in una presunta cellula terroristica è con noi per parlarci per la prima volta pubblicamente del suo incarico sotto copertura durato due anni ricordo che stavo guardando la televisione e sei apparso al tg non potevo crederci mi sono detto ma che diavolo ha fatto e infatti è arrivata subito la telefonata della mia comunità per chiedermi cosa diavolo stessi facendo la comunità ha visto il mio coinvolgimento come infiltrato come qualcosa di negativo più ancora del fatto che ci fossero dei giovani musulmani che complottavano per fare atti terroristici ti sembra giusto tutti credono che i loro figli non possano essere coinvolti in queste cose quindi cosa ti aspettavi dalla comunità che ti abbracciasse mi reputo fortunato sono riuscito a stravolgere le idee estremiste che erano nate in me il mio obiettivo ora è quello di evitare che altri giovani possano diventare estremisti come lo sono stato io lo ritroveremo più tardi mubin sheikh canadese si era ci ha raccontato radicalizzato in pakistan ora se guardiamo gli arrestati quattro uomini arrestati dalla polizia russa dopo l'attentato quello del 22 marzo loro sono originari invece del tajikistan dove il tajikistan il tajikistan è a nord dell'afghanistan a ovest della cina è un paese che sarà grande più o meno la metà dell'italia c'ha 10 milioni di abitanti paese che magari in tanti neanche conoscono bene no però lì per esempio la polizia ha arrestato altre 15 persone legate a organizzazioni di attentati ecco vengono da lì nuovi terroristi no sono spesso la continuazione di una storia che è nata nel 1979 quando è stato invaso l'afghanistan quelli che noi chiamavamo combattenti per la libertà poi sono diventati no i combattenti invece del terrorismo le loro idee non erano necessariamente molto democratiche queste formazioni sono mutanti come è normale che sia come dire in ogni organizzazione hanno perso il grande stato dell'isis tra siria iraq si sono dispersi hanno creato anche con chiamiamolo un franchising nuove province dove dei gruppi locali sono stati associati diciamo al marchio dell'isis del stato si è una tipica tecnica jihadista in questo ben laden ha cambiato la storia del terrorismo mondiale lo ha privatizzato e lo ha reso molto più orizzontale libero da legami statali o quasi perché poi come dire ci sono anche complicità statali una cosa volevo chiedere proprio sull'isis c'è una foto che fece il giro del mondo era di giugno del 2017 e c'erano i membri dell'esercito iracheno che festeggiavano con una bandiera dell'isis perché l'avano rubata praticamente ai combattenti dell'isis la sconfitta dell'isis quella purtroppo le rovine sono di mosul e invece oggi stiamo ancora qui a parlare dell'isis quindi l'isis c'è viva quella vecchia isis che aveva costituito uno stato di fatto è stata schiacciata e però si è diffusa bisogna contrastare non solo le idee ma le condizioni che portano a certe idee uno dei moventi maggiori di questi terrorismi è l'umiliazione la voglia di combattere per una giusta causa e quindi il senso di ingiustizia su questo scusi perché noi sulle motivazioni tra un po ci andremo intanto una cosa volevo ricordare a tutti che c'è tra poco tra pochi mesi un grande evento in programma nel cuore dell'europa 26 luglio 11 agosto 10.500 atleti di 206 paesi milioni di spettatori andranno a parigi per le olimpiadi è questo il prossimo grande rischio per l'europa i terroristi oppure c'è per l'europa o i terroristi preferiscono colpire più a sorpresa mi risponde tra pochissimo siamo di nuovo in studio e in diretta qui a today stiamo parlando con alessandro politi del terrorismo islamico e dei possibili nuovi attentati anche in europa e la foto che ci ha riaccolto e quella con cui ci avevamo c'eravamo salutati è quella delle olimpiadi di parigi abbiamo detto 26 luglio 11 agosto 10.500 atleti tutto il mondo presente e la domanda era è questo il prossimo rischio per l'europa o invece i terroristi amano più degli attentati a sorpresa questo è un possibile rischio tant'è vero che i francesi sono molto rigorosi appena c'è stato l'attentato al crocus hanno alzato il livello di allerta e non è stata una scelta gratuita io penso che se come dire mi ricordo bene che alcuni paesi avevano dei seri dubbi se la grecia fosse stata in grado di garantire la sicurezza delle sue olimpiadi alcuni paesi sono stati molto arroganti col governo greco il governo greco li ha mandati a passeggiare le olimpiadi sono passate senza senza quindi certo che c'è un rischio ma è proprio questo il lavoro di prevenzione allora andiamo a sentire visto che lei ha citato appunto la francia ha detto hanno alzato il livello di sicurezza andiamo a sentire la nostra seconda testimonianza di oggi che viene proprio dalla francia c'è un contesto di allarme a parigi per il rischio di nuovi attentati dell'estremismo islamico come in questa città se se ne sono visti nel 2015 la situazione media orientale è quella che sappiamo si teme e che si ripercuota nella situazione francese dunque il governo ha elevato l'intensità del piano di vigilanza antiterrorismo che prevede i militari nelle strade della capitale di altre città francesi e anche deciso una particolare vigilanza di fronte alle sinagoge perché in questo mese di aprile ci sarà la pasqua ebraica vigilanza speciale anche nelle scuole ci sono state riunioni proprio questa settimana per intensificare l'allarme negli istituti scolastici francesi allora che la francia abbia paura di attentati si è capito anche da una cosa che è successa questa settimana pensate la portavoce del governo ha detto nel weekend di pasqua abbiamo sventato un attentato abbiamo arrestato un'altra persona poi l'hanno corretta hanno detto no no l'arresto era di inizio marzo però questo è per dire quanto hanno paura in questo momento c'è una cosa che accomuna le due testimonianze che abbiamo sentito stati uniti e francia tutti e due hanno citato il medio oriente allora oggi in vari paesi in varie città e anche europee ci sono per esempio dei murales no adesso forse ne vedremo uno di londra in supporto alla palestina lei pensa che questo questa guerra e medio oriente porti più rischi nell'immediato è solo nostra paura questa è chiaro che è difficile da valutare da un lato la vicenda di casa è fatta apposta per facilitare la propaganda jihadista quale esempio migliore è difficile dall'altra però le dinamiche di queste cellule che sono strettamente legate agli eventi bellici hanno il loro percorso noi abbiamo avuto attentati quando sembrava che il medio oriente tutto fosse ecco l'ordine regna in medio oriente sulla palestina e invece non li abbiamo avuti quindi sì certo che uno ha questa reazione di collegamento immediato ma appunto nella nebbia del terrorismo le cose sono meno evidenti di quello che sembra negli ultimi anni l'occidente ha cercato di affrontare questo problema in due modi uno gli arresti in francia tantissimi arresti per terrorismo e l'altro ai programmi di deradicalizzazione che vuol dire vuol dire impedire che le persone a rischio diventino dei terroristi allora insieme al protagonista del nostro reportage che abbiamo visto già prima robin shake l'ex jihadista che è diventato collaboratore dei servizi segreti canadesi noi adesso cerchiamo di capire che cosa sta succedendo in tre città europee tra le città del continente europeo che più hanno subito attacchi terroristici c'è sicuramente lontro e questo è il luogo dell'attentato del 7 luglio 2005 quando ero sotto copertura a toronto i sospetti facevano riferimento all'attentato di londra dicendo di aver pianificato qualcosa di molto peggio da allora il regno unito ha sventato più di 50 attacchi di matrice terroristica in gran bretagna c'è una comunità musulmana piuttosto numerosa e per fortuna molti di loro sono coinvolti nella deradicalizzazione siamo nell'estand e mobin sta per incontrare alcuni giovani che hanno un passato violento alcuni di loro sono stati coinvolti in reati con armi da fuoco e potrebbero essere facili prede per chi recluta jihadisti sono sempre circondato da sguardi razzisti ormai ci sono abituato ma ovviamente questo mi fa arrabbiare essere musulmano non significa essere un terrorista cosa sarebbe successo se non avessi abbracciato questo programma dove saresti oggi sarei morto o in prigione raheel but è musulmano e ha messo su un programma di aiuto per giovani a rischio quando ero nel calcio di high point negli stati uniti ho deciso che volevo dare una mano ai giovani che si avvicinano al terrorismo e che sono preda di reclutatori calcolatori che sfruttano le loro vulnerabilità fingendo di diventare loro amici anche per peter newman a fondatore del centro internazionale di studio sulla radicalizzazione del king's college di londra il problema è sempre la vulnerabilità dei giovani ciò che gli estremisti dicono ai giovani è che per quanto tu possa sforzarti la società occidentale non ti accetterà mai perché sei musulmano la gente cerca un senso di comunità di identità in alcuni casi potere avventura quasi la metà delle reclute dell'isis in europa è stata precedentemente coinvolta in bande in pratica applicano quello che stanno fare dandogli una valenza morale così pensano di andare in paradiso la deradicalizzazione è un obiettivo anche per la germania qui siamo a berlino e questo è il luogo della strage al mercatino di natale del 19 dicembre 2016 il lavoro della polizia tedesca è essenziale ma in germania la maggior parte del lavoro di prevenzione si deve ad organizzazioni non governate come questa organizzazione abbiamo un problema carcerario dovuto a tante persone che sono tornate dalla siria dopo essere state con l'isis o con al caeda con loro adottiamo una formazione individuale perché non è possibile integrarli in gruppi a volte siamo i primi nella vita di questi giovani ad ascoltare la loro storia li accettiamo come persone e condanniamo i loro atti ma senza umiliarli guardiamo al loro vissuto e cerchiamo di aiutarli a capire perché hanno agito in quel modo diversa invece è la situazione in francia dove si punta di più sulla sicurezza dopo gli attentati del 2015 a parigi contro la sede di charlie hebdo e al teatro del bataclan la lotta al terrorismo è stata in cima alle priorità di ogni governo in carica francis la francia è uno stato molto centrale e piramidale ed è ancora convinta di poter giocare un ruolo fondamentale nella lotta e nelle misure di prevenzione al jihadismo ma non è in grado di farlo fra le 90 persone brutalmente assassinate alla bataclan c'era hugo sahad e questo è suo padre hugo studiava informatica all'università di montpellier aveva deciso di passare il fine settimana a parigi con me è arrivato il venerdì pomeriggio ed è andato direttamente al bataclan quando sono arrivato a casa verso le 21 ho ricevuto una telefonata da uno dei suoi migliori amici che mi ha detto stefan è successo qualcosa al bataclan e poi c'è arrivata la notizia che hugo era stato ucciso ho fatto una promessa mio figlio che non vinceranno mai questa foto è stata scattata la scorsa estate è la sua ultima foto era felice non vinceranno mai ok mai tante voci tante città alessandro politico conosceva anche qualcuno dei protagonisti del nostro reportage perché si impegna appunto su questo fronte da anni no abbiamo detto della francia abbiamo chiuso adesso sul bataclan dove l'allarme è piuttosto alto se uno guarda l'allarme di oggi in francia terroristica è lo stesso del 2013 vuol dire che poco no vuol dire che tanto perché nel 2015 poi dopo è arrivato il bataclan qui c'è il primo ministro a tali che va a vedere appunto con i militari quali sono i rischi attuali ma la francia ha puntato tutto sulla sicurezza qualcuno dice forse non hanno puntato abbastanza sulla de radicalizzazione perché stanno crescendo nuove generazioni di terroristi le due cose vanno assieme è inutile puntare solo sulla sicurezza anche perché spesso poi carceri se non ben gestiti diventano altre università del terrorismo in italia si era fatto un lavoro molto serio sul jihad della parola quindi non su quello della spada con dei risultati molto interessanti ma poi le raccomandazioni di questo lavoro si sono disperse il paese con più attentati nell'ultimo anno sentiamo le date iniziali è stato il pakistan e lì la radicalizzazione come ci spiega un sacerdote pakistano che vive qui in italia avviene nelle scuole coraniche sentiamo la sua testimonianza pakistan un bellissimo paese ma con tanti tanti problemi precaria situazione economica mancanza di istruzione ma soprattutto terrorismo nel 2023 ci sono state 1.524 morti 1.463 feriti nel 789 attacchi terroristici questo accade perché lo jihadismo radicale inculca il sentimento di odio nelle scuole coraniche le vittime di questi età che sono i cristiani sono i musulmani sono le forze militari spesso i cristiani sono odiati attaccati discriminati le case bruciate le chiese bruciate migliaia di vite umane spezzate via questa una sconfitta per tutta l'umanità una sconfitta per l'umanità ci dice don gilbert jazzaad che parroco di san donino a campi bisenzio vicino firenze quando parla del suo paese no e viene in mente quell'immagine di papa francesco che nel 2019 a febbraio firma un documento sulla fratellanza umana ad abu dhabi col grande imam di al azar eccola qui una delle foto più famose degli ultimi anni c'è qualche cosa secondo lei alessandro politiche i grandi leader islamici potrebbero fare e che non hanno fatto ancora per fermare il terrorismo io credo che i grandi leader di tutte le grandi religioni perché la lista delle strumentalizzazioni religiose e lunga e spietata hanno ancora un lungo cammino da fare le dichiarazioni di vertice sono molto importanti ma poi il lavoro va fatto capillarmente e poi si sa benissimo che tante religioni sono frammentate no c'è la battuta che dice tre ebrei hanno quattro sinagoge ed è una battuta scherzosa ma per dire no la differenza di opinioni questo si vede in tutte le grandi religioni quindi poi sì ci sono alcuni leader che sottoscrivono queste dichiarazioni e danno un impulso però poi poi sul terreno che queste cose si decidono parrocchia per parrocchia scuola coranica scuola coranica il cammino è difficile quella parola che la torà e così via che era nebbia non l'avevamo capita all'inizio la capiamo adesso questa difficoltà perché non c'è un bianco e un nero un nemico singolo da etichettare grazie mille alessandro politi noi ci rivediamo sabato prossimo per parlare di agricoltura in europa molti agricoltori stanno protestando in questi mesi per vari motivi e in africa parecchi agricoltori s'ammalano con i pesticidi che da noi sono vietati allora quale futuro ha oggi l'agricoltura come cambia il cibo che mangiamo noi in un mondo sempre più tecnologico e sempre più globalizzato ne parliamo appunto sabato prossimo buona settimana